Ciao ragazzi e ragazze, bentornati sui miei video. Ho portato delle nuove scelte tra i certificati. Ovviamente tutti i contenuti di questo video non sono dei consigli finanziari, non sono un consulente finanziario e non basate nessuna decisione dei vostri investimenti guardando questo video. I mercati ragazzi sono un posto strano. Quando i prezzi salgono c'è un sacco di gente che compra. Non so se ve lo domandate anche voi, ma chi sta comprando a questi prezzi? Me lo domandavo a fine dicembre, a inizio gennaio, adesso me lo manca, sono troppo alti. Poi quando i mercati crollano, scendono i prezzi, arrivano le occasioni, c'è un sacco di gente che scappa. Allora cominciamo dal certificato che paga di più, è un 10,8% all'anno e paradossalmente quello che paga di più è quello sugli indici. Vi ho detto già che voglio abbassare un po' il rischio, è andata molto bene l'anno scorso e va bene anche non perdere quest'anno. A noi italiani ci piace vincere facile. Come partorisce questo 10,8%? Pagando trimestralmente un bel 2,7%. La barriera in origine all'emissione di questo certificato della BNP Paribas era del 65%, non era di quelle che ci piacciono a noi. Però sono andato a vedere la data di emissione ed era marzo 22, quindi era scoppiata la guerra a fine febbraio, sappiamo tutti, in Ucraina, tra la Russia e l'Ucraina. Siamo andati avanti per tutto il 22, ho visto che ha toccato dei prezzi anche dell'85, questo certificato che ha come sottostanti tre indici. Oggi batte un 96, penso lunedì lo troverete a 97 sul secondario, mettendo l'ISIN che vedete scorrere. La scadenza non è lontana e questo mi piace, è a marzo del 2025. Mi sono detto, se questo certificato ha passato il 2022, per chi ha una view come me, moderatamente ottimista, anche se sto valutato e sto mettendo in atto una sorta di derisking, penso che ce la può fare, avendo pagato, nonostante tutto, nel 2022 tutte le cedole che doveva pagare, è una barriera neanche troppo esageratamente bassa. È un 65% che adesso vi dico i tre indici, soprattutto su uno ci dobbiamo concentrare. Uno è l'autopart index, che è salito dal fixing, adesso si trova al 40% circa dalla barriera. E l'altro è l'oil gas, questo comparto europei, entrambi tutti europei, perché ragazzi vi ho portato un 10,8% sotto la pari sul Nasdaq, non se ne trovano, e neanche se si prendono i singoli titoli delle magnifiche 7, se li trovate a 105, a 110 certi certificati con questo rendimento. Quindi bisogna accontentarsi della nostra vecchia Europa. Andiamo avanti. Dei tre sottostanti c'è questo indice, che poi tra l'altro sono andato a vedere bene, già lo conosco perché abbiamo parlato spesso dei panieri dell'Eurostock. Basic resource, sarebbero le risorse di base, il metallo, le materie prime, che tutti conosciamo, e quali sono le azioni che anche noi tutti conosciamo nella nostra borsa, nei mercati finanziari, che lavorano le aziende a questo indotto. La nostra Tenaris, Rio Tinto, Glencore, ArcelorMittal, Anglo American, che poi tra l'altro prese singolarmente pagano anche bei dividendi. Ovviamente investendo in un paniere non ci sono i rischi che una singola azione fa il botto, tagli i dividendi, come succede spesso, insomma, può cadere. Li ha pagati tutti le precedenti cedole, quindi questo mi ha fatto venire voglia di giudicarlo positivamente, questo certificato, moderatamente positivo. Vi do il fixing, non serve delle altre due, perché vi ho già detto poi, intanto avete l'ISIN e lo controllate, siete anche abbastanza bravi. Il fixing del Basic Reserves era 6,49, quasi 6,50, e la barriera si è posta praticamente a 4,22. Non è mai andata sotto i 500 punti questo indice. Poi ve lo metterò comunque sia, lo posterò sia sulla community YouTube, su Twitter, su X, scusate, e sulla pagina Facebook. Allora, passiamo al secondo certificato. Il secondo certificato è di quelli che piacciono al mio pubblico, no? Sottostante tutto italiano, cedola mensile, no, trimestrale, scusate, anche una molto a breve. E noi amiamo, tra l'altro, ecco, ho pensato che se erano un po' più bassi i mercati li avrei presi tutti e due, se capita l'occasione che scendono, ho detto che non li prenderò. Non solo entrambi per la scadenza breve, ma anche per, come si dice, distribuire la distribuzione cedolare, che è molto simile. Questo qui paga un 9% annuo, paga il 2,5% ogni tre mesi. Non ve lo volevo dire, perché so, vi conosco, alcuni di voi li conosco, quelli più affezionati e li saluto, che quando c'è la cedola molto vicina, qualcuno va là, prima, appena Federica ha fatto il video, poco dopo, se si convincono, se sono della mia idea. La revisione di questo certificato, ossia quando viene deciso il pagamento, valutando le barriere, è quasi San Valentino, praticamente, il 15 febbraio. Di conseguenza, chi lo ha in possesso quella data, la settimana dopo San Valentino, si ritrova il 2,5% sul conto corrente. La scadenza di questo certificato è novembre del 2024, quindi questo 9% in più sta leggermente sotto la pari, avevo controllato sia giovedì che venerdì il prezzo lettera, addirittura non il denaro. Questo va preso al volo, se c'è un po' di ribasso, magari speriamo già da martedì, con l'inflazione americana, e va portato a Dama, anche perché così si recuperano le minusvalenze. E' stato emesso, quando era stato emesso questo, pensate nel novembre 2021, in un contesto discreto di mercati, però poi ovviamente abbiamo avuto tutti i problemi che abbiamo avuto nel 2022, nel 2023, non è che sono state rose e fiori, però siamo tornati sui massimi storici. Chi non è tornato sui massimi storici, è la croce, diciamo, di questo certificato, ossia Fineco, che è rimasta talmente tanto indietro, con i bei conti che ha, che l'ho messa pure mettendoci la faccia, accollandomi un rischio, come tra le top X del 2024. Il fixing a novembre 2021 di Fineco era 17,28, la barriera è 10,38. Mediobanca, no, facciamo prima, Unicredit è fuori dai giochi, 25,7, la barriera è 6,99, Unicredit è andata, bene o male. Su Mediobanca, sono andato però a vedere un'altra cosa, che per quanto riguarda questo certificato, e dal quale si scampa su questo certificato. State attenti però, sarà di lezione per le prossime volte che andate a vedere i certificati sulle singole azioni. Mediobanca stacca sempre il dividendo in quel periodo dell'anno. Sono andata a controllare quando scadeva questo certificato, e quando era l'ultima revisione di questo certificato, e quando era lo stacco dividendo di Mediobanca, perché altrimenti quel bel dividendo che distribuisce la nostra banca italiana, andava a ripercuotersi sul valore. È vero che adesso sta più il 42%, quindi sembra fuori, però a volte ragazzi le trappole, abbassano più tassi del previsto, sì è vicino, perché ogni due o tre mesi, ogni tre mesi si becca al 2,25, però insomma, il novembre può essere anche lontano, se si va in sofferenza. Quando si sta avanti in uno sport di corsa, di gare, i giri non passano mai, no? Chi conosce gli sport di competizione singoli, sa quello che sto dicendo. La barriera è in origine al 60%, quindi adesso bisogna stare attenti, soprattutto soltanto a fine eco. E non ho altro da aggiungere, distribuisce quindi 0,2, 0 febbraio, maggio, agosto e ottobre, tant'è che ogni tanto qualcuno mi chiedeva, mi diceva che incassava poco ad ottobre, e ho trovato anche questo. Beh, io prima di tutto ho scelto dove potevo andare a vincere, che quella è la cosa più importante. E alla prossima ragazzi, se vi iscrivete al canale mi fa piacere, scrivetemi cosa ve ne pensate, se vi piacciono, se avete trovato di meglio, e mettete un like e alla prossima.